Direttamente un jet e adesso la più veloce in assoluto La più veloce con la velocità di 73.96, quindi quasi 74 km orari Alice Paltrinieri! Incredibile! Velocissima! Più veloce che mai! Un fulmine sugli sci! Brava, complimenti per questa atleta che ha raggiunto la velocità maggiore rispetto anche ai ragazzi La più veloce in pista oggi è stata lei Vi ripeti la velocità? 73.96, davvero velocissima 73.96, è da ritiro patente quasi Se ti beccano sulle strade a quella velocità ti ritirano la patente, è incredibile Non te la danno più per mesi, fortunatamente non ce l'hai e sugli sci puoi andare quanto vuoi se te la senti E lo ha detto Pietro prima, ci vuole coraggio e lei ne ha avuto tantissimo per arrivare in cima a questo podio Ok allora complimenti e bravi a tutta quella che è la categoria femmina